In immediata, un assegno di mantenimento di 3.000 euro, perché ce li ha i soldi lasciati da moglie, poi voglio... Scusi, non interrompo, lui è benestante. Sì, soldi che ne ha lasciato la prima moglie. E che tu ne stai buttando pure. Sì, ne ho voluto. Salva ora, è la ricca la prima moglie. Quindi ha lasciato in buone condizioni. Sì, sì. 3.000 euro. 3.000 euro di mantenimento. La villa coniugale, che poi è sempre della sua prima moglie, dove però viviamo insieme. Non sono un signor. E poi voglio continuare ad avvalermi di Gastone. Che rimanga con me Gastone, perché signor giudice. Gastone, pensi, è un uomo meraviglioso. Dichiaro la separazione tra Salvatore e Santina con addebito nei confronti di Salvatore. Egli è tenuto a contribuire al mantenimento di Santina nella misura di 2.200 euro mensili. In assenza di diverso accordo, si rispone la divisione della comunione legale e dunque anche della casa coniugale. Gastone è libero di decidere se recedere dal contratto stipulato con Gastone e successivamente di mettersi alle dipendenze di Santina. Grazie. Grazie. Grazie.